Fuga al nord e poca prevenzione e la sanità della Calabria resta in coma, le conferme dal report di Svimez e Save the Children. Il 43% dei malati si cura fuori regione, un paese a due velocità nell'economia dal punto di vista infrastrutturale e anche sul versante della sanità. Il rapporto Svimez, un paese e due cure, i divari nord e sud nel diritto alla salute, presentato a Roma in collaborazione con Save the Children, conferma una tendenza preoccupante. La Calabria conquista la maglia nera per mortalità infantile, prevenzione e fuga di pazienti al nord. Secondo gli ultimi dati dell'Istat, il tasso di decessi entro il primo anno di vita è di 1,8 ogni millenati vivi in Toscana, ma è quasi il doppio in Sicilia 3,3 e più che doppio tra il Pollino e lo stretto 3,9. Il convitato di pietra e l'autonomia differenziata che rischia di ampliare la disuguadianza interregionali nelle condizioni di accesso al diritto alla salute, i divari territoriali sono aumentati in un contesto di generalizzata debolezza del sistema sanitario che nel confronto europeo risulta sottodimensionato per stanziamenti di risorse pubbliche. A fronte di una media nazionale di 2.140 Euro, la spesa corrente più bassa si registra in Calabria 1.748 Euro, Campania 1.818 Euro, Basilicata 1.941 Euro e Puglia 1.978 Euro. Per la parte di spesa in conto capitale, i valori più bassi si ravvisano in Campania 18 Euro, Lazio 24 Euro e Calabria 27 Euro, mentre il dato nazionale si attesta su una media di 41 Euro.